Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Abbiamo per voi una notizione in anteprima. Kanyaman e Dimetos Demir potrebbero tornare a lavorare fianco a fianco in una nuova serie TV Mediaset. Ecco l'indiscrezione shock. L'attesa di tutti noi fans, che da anni avremmo voluto vedere ancora insieme Kanyaman e Dimetos Demir, se non nella vita privata almeno sul piccolo schermo, sembra stia finalmente per terminare. Indiscrezioni sempre più pressanti, infatti, riportano che i due attori sono stati selezionati per un nuovo progetto, una fiction italiana che permetterà a loro di riunirsi davanti le telecamere. Kanyaman vuole Dimetos Demir a Roma? Kanyaman e Dimetos Demir hanno fatto innamorare il pubblico di Canale 5 con la soap dei Dreamer. La bellissima attrice turca ha impersonato la dolce e sensibile Sanem Aydin, mentre il divo più sexy del momento ha prestato il volto al fotografo burbero e tenebroso Kandivit. Un duo esplosivo anche grazie alla chimica innegabile tra i due attori. Chimica, che per lungo tempo e ancora oggi, scatena il gossip internazionale, tutti sono convinti che tra Kany e Dimet ci sia stato del tenero durante le riprese della soap, e altri affermano con convinzione che i due attori siano addirittura ancora in contatto. Del resto, Demir è single dopo aver firmato il divorzio con Oguzhan Kok dopo solo otto mesi dal fatidico sì davanti ad amici e famiglia, con tanto di tre splendidi abiti da sposa. Yaman, invece, da quando ha messo fine alla relazione con Diletta Leotta si è gettato a capofitto nel lavoro, e ha rigettato ogni flirt che la stampa rosa ha provato ad attribuirgli, anche quello con la collega di Seth Francesca Chillemi. Recentemente, Dimet è stata avvistata a Milano per un concerto, e il settimanale di più ha svelato che l'attrice avrebbe raggiunto Yaman a Roma per un evento, prima di tornare in Turchia. Kany Yaman e Dimet Özdemir, nuova soap insieme Sempre dal noto settimanale proviene la notizia che Kany Yaman avrebbe provato a convincere Dimet Özdemir a seguire le sue orme, essendo l'attrice amatissima in Italia, dove sta andando in onda su Canale 5 la soap My Own My Destiny, che la vede nei panni di Zeynep Gosku in una serie tv tratta da una storia vera. L'attrice sta affrontando una serie di provini. Potrebbe ottenere una parte da protagonista in una nuova fiction mediaset. L'attrice sembra volersi trasferire in Italia per cercare il successo qui da noi proprio come Cannes. Lui stesso le avrebbe consigliato di fare il grande salto, soprattutto adesso che è tornata libera. Sembra che alcuni produttori stiano studiando una serie per rimetterli insieme sul piccolo schermo visto che, al di là di tutto, sono una coppia che funziona, convince, piace al pubblico, che li immagina innamorati anche nella vita, si legge su di più. Insomma, secondo il settimanale, la coppia più amata della soap starebbe per tornare in un nuovo progetto e questo, chissà, potrebbe fare da preludio ad un ritorno di fiamma? Iscrivetevi subito al canale per non perdere nessuna notizia. Grazie, a presto.